Settembre è ora di ritorno a scuola e tra tutti i preparativi e le cose da acquistare prima di riportare a scuola i nostri ragazzi è importantissimo pensare anche al benessere visivo. La capacità visiva e il modo in cui i nostri ragazzi vedono è importantissima per aiutarli in questa fase così delicata di apprendimento e quindi bisogna essere sicuri che tutto ciò che hanno a loro disposizione possa essere utile e adatto e personalizzato sulle loro esigenze e sulle loro caratteristiche fisiche. Quindi è il momento giusto per pensare a un controllo visivo dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e per approfittare di quelle che possono essere le tante promozioni che i centri ottici in questo periodo riservano proprio per il back to school.